Parola d'ordine giustizia e il consigliere regionale Api si ingetta a porre l'attenzione su un ambito che evidenzia nel nostro paese verse uno stato decisamente comatoso, nonostante i numerosi tentativi di riforma messi in atto e che spesso osserva sono risultati inutili. Un intervento immediato tenendo conto anche solo delle poche risorse disponibili per il consigliere regionale aiuterebbe a scongiurare una situazione che da troppo tempo espone l'Italia a giudizi negativi e a richiami da parte dell'Unione Europea. Alla luce di ciò, continua il consigliere, è bene riflettere su soluzioni come l'amnistia e l'indulto, le quali prosegue eviterebbero la bancarotta del sistema giustizia riducendo il carico processuale e il sovraffollamento delle carceri che mettono in difficoltà le nostre realtà. Ma, conclude l'esponente Api, è necessario continuare a lavorare anche sulle riforme organiche di un sistema che manifesta uno stato di continua sofferenza.